L'Istituto Ettore Majorana di Milazzo affianca alla didattica tradizionale, ormai da circa sette anni, i percorsi di educazione imprenditoriale. Nel giugno del 2022 è arrivato proprio questo fantastico premio, il premio ABB, che ha premiato i ragazzi con una giornata fantastica di training proprio nella sede di ABB su temi quali l'automazione e la robotica. I percorsi di educazione imprenditoriale che sviluppano i ragazzi hanno la durata annuale. I ragazzi si costituiscono come una vera e propria mini-impresa e svolgendo dei ruoli manageriali riescono a realizzare un prodotto o un servizio alla fine dell'anno, partecipando a dei contest che sono sia territoriali, sia nazionali, sia europei. L'automazione e la robotica all'interno di un istituto tecnico è di importanza strategica per costruire il progetto di vita degli studenti, sia per finalità che hanno a che fare col mondo del lavoro, sia per il loro proseguo nel percorso di studi in ambito accademico. Nel progetto relativo all'educazione imprenditoriale sviluppato con Junior Achievement, i ragazzi oltre ad essere eseguiti da un tutor della classe, sono supportati da un dream coach che è un esperto proveniente dal mondo del lavoro. Effettuare percorsi di educazione imprenditoriale diventa fondamentale per fornire ai ragazzi quelle conoscenze che permetteranno loro di affermarsi un domani nel mondo del lavoro. Il progetto Demetra nasce all'interno del programma di educazione imprenditoriale in presi in azione di Junior Achievement ed è volto principalmente alla risoluzione di una delle spade di Damocle del nostro territorio, nonché la Sicilia, dunque la siccità e lo spreco idrico. Proprio per questo abbiamo deciso di trovare una soluzione a uno dei problemi più grandi della nostra terra. Impegno di cui andiamo molto fieri dato che ci ha portato a numerosi risultati, tra cui due condivisioni di intenti, una con un comune e una con una grossa azienda e in più abbiamo avuto modo di presentare il progetto agli investitori europei. Il progetto imprenditoriale di Demetra J.A. è stato concepito in un'ottica di salvaguardia del nostro pianeta, sviluppando una soluzione inerente alla tematica dello spreco idrico. Durante lo sviluppo del nostro progetto le figure dei nostri due Dream Coach sono state fondamentali per lo sviluppo di competenze che ci saranno utili in ambito accademico e professionale. In questi 20 anni di collaborazione con Junior Achievement, tanti colleghi hanno voluto mettersi in gioco portando la loro esperienza professionale e personale a supporto dello sviluppo dei progetti dei ragazzi anche tramite lo sviluppo delle soft skills. Queste esperienze hanno portato ai Dream Coach tantissime emozioni di ritorno. Vi invito a fare questa esperienza per la vostra crescita e per la crescita dei ragazzi che sono il nostro futuro.